ok raga eccoci qui e un mi piace iscrivetevi al canale attraverte la campanella bene a tutti i ragazzi faccio questo video che dura di meno buonasera a tutti e niente il mustro che avevo tre uova di pasqua uno l'ho fatto oggi l'ho aperto l'ho mangiato un uovo e mi restaro due così domani me le mangio i uova di pasqua il mustro a voi così questo video lo carico ora stasera così domani non le vedete più quando le apro domani la giornata voi avete uno quanti uova di pasqua avete io avevo tre uno oggi l'ho aperto e mi restaro due così domani sono pronto quando mangio apro quelle due e niente e andiamo avanti seguitemi tutti come vedete paolo silvia lori claudia silvia gloria mari e geneva con la termine con la gelo c'è nel nord alla colla x e assunta andiamo mettiamo pausa raga sta registrando ok eccolo qua il mio uovo di pasqua star world i kinder è il migliore i kinder a voi piace il kinder o un'altra maniera era buono vedete anche quello e l'ho mangiato oggi avevo tre ora restare due non fa niente la prossima guardate avete visto questo lo possiamo così domani lo apro e niente arriva quell'altra aspettate no metto pausa che quasi sbagliavo e chiudo la registrazione ok eccoci qui questo è un uovo di pasqua c'è scritto pallone da calcio l'uovo dei campioni ora il mustro che qua c'è l'ostia è fatta la maschera del film la casa del papel la volete vedere aspettate lo prendiamo è bellissimo avete visto raga se è scritto buona pasqua e niente vi dico buona pasqua e buona pasquetta a tutti questo video lo metto stasera e niente così lo vedete eccolo qua leo o nel la eccolo qua e niente io chiudo d'oro eccolo qua quello che porti il pane lui l'ha fatto eccolo qua gli uova avete visto ciao raga alla prossima e niente chiudiamo così e domani apro questo e quello la che mostrai avete visto questo e questo belli e niente andiamo che stasera vediamo il curco subito no qui sopra alla prossima io vi saluto e ci vediamo alla prossima sto caricando quell'altro video che questo lo metto prima e buonasera a tutti vado al mio passo tempo un buco i video domani facciamo la diretta di pasqua a pasquetta e niente vi saluto ciao belli e del vostro enrico pasquetta pratico tutti e l'accendo sulla o io sono uno youtuber e sono famoso e sono una leggenda voi state con la bocca chiusa state stiti che io capisco tanto e voi niente ciao belli vi voglio bene tutti ciao ciao ragazzi ciao belli io chiudo ciao 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 io ciao io